oriana marzoli e daniele dal moro di nuovo insieme al festival di venezia le polemiche e cos'è successo sul red carpe venerdì 8 settembre si è tenuta la penultima giornata dell'ottantesima edizione della mostra del cinema di venezia come di consueto anche oggi sono stati moltissimi gli influencer che hanno sfilato sull'ambito tappeto rosso da antonella fiordelisi a soffico de goni e alessandro basciano nella prima apparizione dopo la crisi fino a oriana marzoli e daniele dal moro ad attirare l'attenzione sono stati particolarmente questi ultimi soprattutto a causa di una presunta lite avvenuta sul red carpe come si vede in un video condiviso da tag 24 dopo aver percorso insieme la passerella lei con una tutina argento luccicante e lui con un classico smoking i due avrebbero avuto un malinteso con la sicurezza da ciò che è stato possibile osservare nel filmato pare che prima di andare via oriana e daniele abbiano cercato di avvicinarsi ai fan dietro le transenne che continuavano a chiamarli per poter fare delle foto insieme tuttavia la coppia è stata fermata dalla sicurezza che non li avrebbe lasciati passare nel filmato si vede daniele discutere con un addetto per poi scusarsi con la folla per non essersi potuto fermare tuttavia c'è da dire che sia dal moro che oriana si sono mostrati sorridenti durante la conversazione con la security dunque non è sfociata nessuna lite o scontro ma le polemiche non sono comunque mancate per la marzoli e dal moro solamente poco più di una settimana fa infatti la venezuelana annunciava tramite un tweet l'ennesima fine della storia d'amore con il fidanzato ma tempo 48 ore ed ecco che l'ex vippona è volata dalla spagna fino in italia tornando subito insieme al veronese per questo la presenza della coppia sul red carpe non è andata giù a diversi utenti che li hanno accusati di fare tutto per ottenere hype e visibilità d'altro canto invece i fan degli oriele sono andati letteralmente in tilt non riuscendo a nascondere il proprio entusiasmo nel vedere la coppia sul red carpe tra baci ed effusioni varie